Occhio alle truffe perché adesso bisogna stare attenti anche all'assicurazione RC Auto online, comodissime ma purtroppo a volte nascondono l'imbroglio. Mandiamo un messaggio a tutti di stare attenti quando si fanno le polizze online, in particolare c'è un sito il quale rilascia delle polizze dietro pagamento ovviamente e queste polizze poi risultano delle vere e proprie truffe. Non sono polizze, sono dei documenti fatti in fotocopia o comunque scannerizzati il quale cambiano solamente i vostri dati. Ne sa qualcosa un'automobilista che si è recata nei giorni scorsi alla sede di San Zeno dell'Unione Consumatori perché sentite un po' cosa le è capitato. E' stata fermata dalla polizia locale di Treviso il quale gli ha sequestrato il mezzo con 1000 euro di multa. Lei con molta sorpresa ha detto ma io la seconda volta che faccio la polizza era sempre andato tutto liscio. Ecco stare attenti perché vi comporta anche dei guai di tipo amministrativo questo. Il Presidente dell'Unione Consumatori Antonio Tognoni lancia un messaggio chiaro. Fare attenzione quando una volta stipulato questo contratto verificare sempre nel portale dell'automobilista sulle assicurazioni che la vostra targa sia coperta dall'assicurazione. Una raccomandazione importante da seguire che arriva da chi negli anni ha lavorato per la tutela dei consumatori ma che oggi rischia di scomparire. Voci di corridoio danno infatti per incerto il futuro delle 15 sedi dell'Unione Consumatori del Veneto.